Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi immancabile video potteriano, questa volta a tema Noble Collection ma non solo. Ma prima di cominciare voglio ricordarvi che per tutto il mese di febbraio il codice 7Potter su Pampling non funzionerà perché è attiva una promozione anniversario fantastica. Acquistando un minimo di 3 magliette, tutte le magliette su Pampling costeranno solo 10€, quindi 3 maglie per 30€. E ogni maglia successiva resterà comunque a 10€, quindi ragazzi sbizzarritevi. Questa è una maglia tema Stranger Things che ho preso su Pampling e che vi consiglio caldamente. Detto questo ragazzi cominciamo e prima di passare all'oggetto Noble Collection voglio mostrarvi un acquisto fatto su Aliexpress. Sono passati mesi, io li ho ordinati poco prima di Capodanno e sono arrivati qualche giorno fa, quindi metà febbraio inoltrata. Ma ragazzi, eccoli qua. E voi direte cosa sono? Bene, sono due oggetti che reputo abbastanza importanti per la collezione di un potteriano. Cercavo una cosa del genere da tempo e finalmente i nostri amici cinesi hanno pensato anche a noi fan della saga, mi stavano per cadere. E ragazzi si tratta di un supporto per due bacchette magiche. Abbiamo queste tre parti in plastica, una centrale e due supporti laterali. Quindi basta semplicemente montarli in questo modo, credo che questi vengano messi da questa parte, sì così, e l'altro da questa parte. Ecco qui che abbiamo montato questo bel supportino. Non so se si riesce a vedere ripoggiato dalla videocamera, però comunque è un semplice supporto di plastica. Dove andare a mettere in esposizione le nostre bacchette. E su ogni supporto è possibile metterne ben due. Quindi io lo trovo molto molto interessante. Ne ho acquistati due perché volevo prima vederli e testarli. E devo dire che sono molto molto carini e interessanti perché sono di una plastica che così a prima vista sembra molto resistente. Poi sono anche davvero funzionali perché tengono perfettamente le bacchette sopra e quindi sono molto utili, secondo me, per esporli in collezione. Io la utilizzerò per esporre la bacchetta di Harry e di Voldemort assieme a tutti i doni della morte e alle altre cose Noble Collection. Quindi mi serviva davvero tanto e costano pochissimo. Gli ho pagati circa 60 centesimi l'uno, incluse le spedizioni. Naturalmente i tempi sono biblici. Adesso con i problemi che si stanno affrontando in Cina non so se i tempi probabilmente si allungheranno un po' di più. Ma in ogni caso io vi lascio sotto in info box il link per acquistare questi supporti e poi a voi la scelta. Ma adesso passiamo invece ad un altro pacchetto che mi è arrivato dagli amici di Universal Picture Home Entertainment. Che mi hanno inviato un pacchetto che bramavo da tantissimo tempo e ragazzi chi mi conosce saprà probabilmente già di quale uscita Home Video stiamo parlando perché l'aspettavo davvero con molta molta ansia. Ed eccolo qui ragazzi si tratta del Blu-ray di Downton Abbey, del film di Downton Abbey che finalmente è arrivato anche in un video. Voi lo sapete, ve l'ho raccontato, ho avuto davvero una brutta esperienza al cinema. Il film l'ho visto ma non me lo sono goduto per niente perché avevo della gente davvero molto molto maleducata vicino, sia dietro che accanto a me. Sono stato molto nervoso durante tutta la visione del film e infatti non vado al cinema da quella volta perché davvero mi sono scocciato della maleducazione della gente che si fa fotografie, gioca, sta su Instagram. Davvero fanno i loro porci comodi al cinema quindi secondo me i cinema, i responsabili devono darsi una bella svegliata e mettere delle persone dentro le maschere che devono fare il loro lavoro e buttare fuori a calci nel sedere chi si comporta in questo modo al cinema. Chiusa questa parentesi ragazzi non vedevo l'ora di ricevere il Blu-ray e finalmente qui tra le mie mani e naturalmente questa sera prima cosa mi guarderò questo film spaparanzato sul divano, sul mio maxischermo, popcorn e tranquillità e relax assoluto. Quindi io ringrazio tantissimo l'Universa Picture Home Entertainment per avermi inviato questa copia del Blu-ray che tra l'altro contiene anche dei contenuti speciali molto interessanti come le scene tagliate, conversazioni col cast, la visita reale, la fedeltà agli anni venti che naturalmente è sempre sinonimo di tanto nebbio, è sempre stata molto molto fedele sia a livello di costumi, di scenografie, di riferimenti storici e questa è una delle cose che più mi è piaciuta di questa serie, ma poi anche conversazioni con Julian Fellows, quindi lo scrittore della serie. E poi cosa molto importante è presente anche un riepilogo delle stagioni precedenti, così chi magari non ha avuto modo di guardare la serie può comunque apprezzare il film avendo questa sorta di riassunto incluso nei contenuti speciali. E poi naturalmente il commento del regista. Quindi edizione molto molto ricca, mi piace anche tantissimo la scelta della Marei in color oro e ragazzi naturalmente tutti i link ritrovate in infobox e fatemi sapere cosa ne pensate di questo film. A me è piaciuto tantissimo ed è già stato confermato anche un secondo film e non vedo l'ora che esca. Ma detto questo ragazzi passiamo al pezzo forte della giornata che è un oggetto Noble Collection. Io in realtà l'ho già aperto, quindi sono molto molto onesto. Non era chiuso perché volevo proprio vederlo, non vedevo l'ora di aprirlo. E ragazzi si tratta della collana del pendente di Grindelwald. Ho aspettato davvero tantissimo per acquistare questo pendente perché uscì praticamente in concomitanza l'uscita del film dei crimini di Grindelwald e se andate su ebay o su amazon o in qualunque altro sito che vende merchandising ufficiale Noble Collection troverete come primo risultato un medaglione di Grindelwald, una collana con il ciondolo in una confezione triangolare. Quella costa poco meno di 60 euro. Ma ultimamente, secondo me, perché non ha avuto tanto successo il film, forse non hanno venduto come speravano questi gadget legati ai crimini di Grindelwald, è arrivata in sordina su Amazon, io l'ho trovata lì, una versione più economica che costa solamente 18 euro. Io ho cercato di capire quali siano le differenze tra i due. L'unica cosa che mi è saltata all'occhio è la lavorazione del pendente perché nella versione da 58 euro è totalmente traforato quindi la parte metallica è traforata per bene mentre nella versione da 18 euro, nonostante sia identica la forma, il materiale, è davvero uguale l'unica differenza è che non è traforato ma solamente inciso. Devo dire che a prima vista non si nota, non c'è nessuna differenza adesso proverò magari a mostrarvi la differenza sullo schermo con delle foto prese da internet ma l'unica differenza è questa che naturalmente quello è un pochino più dettagliato, un pochino più rifinito mentre questo qui sembra essere meno rifinito solo da questo punto di vista quindi della traforatura del metallo ma al centro hanno la stessa perlina di colore giallo, bianco, quasi oro e naturalmente le dimensioni sono uguali anche la lunghezza della collana, ho fatto diversi paragoni, ho visto diversi video anche le incisioni del medaglione, è tutto uguale cambia solamente la confezione che naturalmente questa versione qui da 18 euro viene presentata in questa scatolina mentre quell'altra versione ha una confezione di un livello leggermente superiore più grande, più bella da tenere esposta sicuramente ma ragazzi a me interessa il prop di per sé a me non interessa mettere in esposizione la confezione e poi posso anche fare a meno dei dettagli vista l'enorme differenza di prezzo ci sono 40 euro di differenza tra questo e l'altra versione quindi ragazzi io l'ho già vista, l'ho già mirata da vicino l'ho ispezionata parecchio e devo dire che mi piace tantissimo molti di voi magari si chiederanno di cosa si tratti beh ragazzi sinceramente non lo sappiamo ancora neanche noi non lo sa nessuno perché si è visto nel film questo ciondolo appeso al collo di Grindelwald probabilmente è legato al patto di sangue che è stato fatto tra Grindelwald e Silente e questo patto probabilmente ha a che fare con questo ciondolo e questa perlina al centro cosa carina, cosa interessante è che questa bacchetta che è infilata all'interno di questo rombo sembrerebbe essere quella di Silente perché ha la stessa impugnatura parliamo del giovane Silente non del Silente dei film di Harry Potter con la bacchetta di Sambuco ha la stessa impugnatura e la stessa punta la parte centrale che è quella avvolta a spirale non si vede però si nota qui nell'impugnatura sul fondo un'incisione che sembrerebbe una D e una G quindi che potrebbe essere appunto Dumbledore e Grindelwald quindi è qualcosa che sicuramente ha a che fare con il loro patto e ne vedremo sicuramente di più ne sapremo sicuramente di più nel prossimo film che si sta davvero facendo tanto tanto desiderare e che probabilmente stanno cercando di migliorare rispetto a quello precedente che, ammettiamolo, non è piaciuto quasi a nessuno io in primis ma ragazzi, parliamo del ciondolo io lo trovo molto molto bello nonostante non sia traforato comunque la lavorazione è davvero molto molto bella mi piace tantissimo e poi ha anche un bel peso il materiale è di ottima qualità anche la collanina è molto bella quindi per un cosplay di Grindelwald può andare assolutamente bene ma va altrettanto bene per tenerlo esposto assieme agli altri oggetti di Noble Collection io naturalmente vi lascio il link sotto in info box a me piace davvero tanto, davvero tantissimo e quindi sono contento di averlo scovato per un prezzo così basso e di potervelo consigliare ragazzi, tutto in info box questo, il film di Tonto Nebbi e gli espositori per le bacchette bene, credo che anche per questa settimana sia riuscito nel mio intento di farvi diventare poveri perché sicuramente mi manderete a breve dei messaggi con alcuni di questi acquisti ormai mi dite che sono la vostra rovina e sono davvero tanto tanto contento perché vuol dire che vi fidate del mio parere del mio consiglio e quindi questa è una cosa che mi lusinga tantissimo e ragazzi, detto questo a me non resta che dirvi come al solito di sostenere il canale cliccando sotto in info box acquistando qualora voleste qualsiasi cosa attraverso il mio link Amazon della mia vetrina Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che mi aiuterà a mandare avanti il canale e a realizzare nuovi video unboxing nuove recensioni e ad acquistare nuova attrezzatura quindi sempre molto utile il vostro sostegno che a voi costa solo un click ma che per me può fare la differenza e poi ragazzi naturalmente iscrivetevi al canale lasciate un commento condividete il video con i vostri amici ma ragazzi adesso chiudo il becco però prima di salutarvi voglio mandare un abbraccio enorme a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo la tragedia della quarantena legata al coronavirus quindi vi mando un abbraccio fortissimo e ragazzi noi ci vediamo come sempre nei prossimi giorni con tante altre novità ciao 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 ciao